Chiara Ferragni è tornata da Dubai dopo un'intensa trasferta di 48 ore, dedicata a importanti meeting di lavoro. Al suo rientro a Milano, nella nuova abitazione che condivide con il marito Fedez, Chiara ha ricevuto la visita della madre, Marina Di Guardo. La scrittrice e madre di tre figli ha colto l'occasione per trascorrere del tempo con Chiara e per vedere la loro amata cagnolina, Paloma. Paloma, che la famiglia Ferragni ha adottato da tempo, è rimasta a casa di Chiara durante la separazione temporanea di Fedez. Questo periodo di distacco ha visto il rapper allontanarsi temporaneamente dall'abitazione coniugale, mentre Paloma ha continuato a vivere con Chiara. La visita di Marina Di Guardo è stata anche un momento di riconciliazione e di legame familiare. Madre e figlia hanno potuto rilassarsi insieme, mentre Paloma godeva delle coccole e dell'affetto di tutti i membri della famiglia. La nuova casa di Chiara Ferragni a Milano si è rivelata un accogliente rifugio per questi momenti di serenità familiare. La presenza di Marina ha portato una ventata di freschezza e di amore materno nella quotidianità di Chiara che, nonostante i ritmi frenetici della sua carriera, trova sempre il tempo per le persone e gli affetti più cari.